Elsa Morante nasce a Roma il 18 agosto del 1912. Scrittrice, poetessa, saggista e traduttrice italiana, considerata una delle narratrici più importanti del secondo dopoguerra. È stata la prima donna a vincere il premio strega nel 1957 grazie al suo capolavoro, l'Isola di Arturo. L'Isola di Arturo, Elsa Morante. La lettura è tratta dal capitolo La vita eterna. Disposte che ebbe le sue vergini, la sposa le rimirò tutte intorno per la stanza. E poi mi domandò se credevo che mio padre le permetterebbe di appenderne una di là in camera, a capo del lettino in cui lei doveva dormire. Alzando le spalle alquanto scettico, io le risposi «Credo di no». Indi le dichiarai severamente. «Noi non crediamo a nessuna madonna». E soggiunsi. E nemmeno a Dio. «Tuo padre però adesso è cristiano. Ella ribatte con gravità». Tale sua frase, che lì per lì io lasciai cadere distratto, senza prenderla fatto in considerazione, doveva manifestarsi in seguito alla mia memoria come una primizia sorprendente. Ma ritornerò su questo più tardi. Dalla nostra breve discussione sulle immagini domestiche, il pensiero della sposa parvi ricondotto, a proposito, sull'argomento dell'antenato, evocato poco prima da mio padre. E piena di perplessità, si decise a domandarmi se davvero, in giro per il castello, c'era quello spettro, odiatore di donne. Io, alla sua domanda, alzai di nuovo le spalle, con una smorfia. La sua credulità mi stancava. «Ma perché non capisci?» Proruppi. «È vero che qua dentro una volta ci abitava quella Malfitano, ma è morto. Conosci che cosa significa morto? Insomma, hai da sapere che mio padre non ci crede agli spettri, e io nemmeno. Gli spettri non esistono da nessuna parte, sono leggende romantiche». Essa mi si addicinò, e circospetta, in un bisbiglio solenne, mi affermò che, invece, gli spettri esistono. Lei non ne aveva veduto mai nessuno, ma, per esempio, una signora conoscente della sua comare, che faceva l'infermiera di notte all'ospedale degli incurabili, ne aveva veduti a centinaia. «Però io», disse infine, «seppure li vedo, che fa? Quelli non sono cosa da mettere paura». E mi spiegò che quelli sono semplicemente dei disgraziati, dei peccatori in pena, i quali, come inermi e miseri mendicanti, vanno elemosinando preghiere per la loro pace eterna. All'aspetto non hanno più una figura di cristiani, ma sembrano appena dei cenci di biancheria che sventola. E basta dire un requiem per loro, che subito vanno via. Fui tentato di rivelarli che i morti, quasi di sicuro, non hanno più spirito, che nella morte tutto si spegne, e che la sola sopravvivenza è la gloria. Ma poi, subito ripensandoci, mi dissi che non servirebbe a nulla informarla di certe cose. Difatti, per lei la gloria, in nessun caso, non poteva mai darsi. E perciò, tanto valeva lasciarla illusa nelle sue opinioni. Mi contentai dunque di farle notare, con sarcasmo. Beh, ma se basta una preghiera a scacciarli, tu perché hai paura di stare sola la notte? E mica è di loro che mi metto paura. Essa protestò, risoluta e quasi indignata. Sarebbe da vergognarsi a mettersi paura di loro. Né di loro, né di nessun'altra cosa. Mica io sono come mia sorella, che alla sera si prende paura perfino degli occhi di un gatto. Per me, pure se viene il fulmine, o la gente di mala vita, io non mi metto paura mai. Domandalo a mia madre se non è vero che io non mi metto paura mai di nessuna cosa. Però, io pensai, senza dirglielo, di mio padre hai paura. L'unico spavento per me, riprese lei, come sforzandosi di spiegarmi qualcosa di assai difficile, che lei medesima non sapeva bene spiegarsi, è questo, di stare sola. Ma mica per qualche ragione. È proprio quel fatto di stare sola, senza nessuno vicino. È proprio la paura di stare sola. Mica nient'altro che mi mette paura. E poi, allora, a questo mondo, perché dovrebbero esserci tanti cristiani, se non fosse per riunirsi insieme? È mica solo i cristiani, pure gli animali. Di giorno, magari, vanno girando separati, ma di notte si ritirano tutti quanti insieme. Non è vero. Io le ribattei deciso. Certi animali sanno stare nella solitudine e sono magnifici e superbi, come degli eroi. Il gufo va e si posa quasi sempre solo, e il bue marino va girando solo le notti, e l'elefante cammina da solo, per andarsene lontano, quando deve morire. Ma l'uomo, poi, ha molto più cuore di tutti quanti gli animali. Lui è uguale a un re, è uguale a una stella. Basta. Io, conclusi orgogliosamente, sono stato sempre solo, in tutta la mia vita. È così è la sorte di chi non tiene la madre, essa commentò con una tale ingenua compassione che la sua vocetta, agra e insipida, ne suonò melodiosa. Eh, aggiunse, come se enunciasse un raro pensiero filosofico. La madre è la prima compagnia in questa vita, che nessuno mai se ne scorda. Anche il mio destino, dichiarò poi d'un tratto maestosamente, è stato di orfana, perché io sono restata senza padre, e senza fratello pure sono restata. Mia madre, mia sorella e io, solo tre femmine, ecco com'è restata la nostra famiglia. Prima di mia sorella c'era un fratello, più piccolo di me. Teneva otto anni quando è morto. Hanno fatto cinque anni a Natale, dal giorno della sua fine. Morì assieme a mio padre, in quella grande disgrazia famosissima. Che disgrazia! Io mi informai preso da subito interessamento. Difatti, dal suo tono di grande aristocrazia, mi aspettavo che la disgrazia di cui si trattava fosse derivata, perlomeno, da qualche eccezionale raid aereo o altro simile avvenimento di importanza mondiale. Eh, quella famosa disgrazia del carico della Pozzolana, che fino a Roma se ne è parlato, che ci restarono quattro cristiani, e quante belle esegue ci furono per loro. Ci è venuta pure la banda, e l'autorità, e tutto pagato dal comune, i cavalli, la corona, e tutte cose. Mio padre era andato sul lavoro, e pensare che di solito scioperava sempre, perché era assai sfaticato. Di mestiere preferiva il signore, lui era così. Ma in quella settimana si era sentito la volontà, e era andato a lavorare allo scarico della Pozzolana. E mio fratello gli ha portato il mangiare. Avevamo fatto la pasta in bianco, e a mio fratello gli piaceva più di tutto, perché mio fratello aveva tutte idee speciali, per esempio, il sugo mica gli piaceva, e mia madre gli disse, prima va e lo porti a tuo padre, e poi torni a mangiare assieme a noi altri. E lui, brontolando per questo fatto, se ne andò col piatto di mio padre legato dentro il tovagliono. E così fu l'ultima cosa che abbiamo vista di lui. È stata la fatalità del destino. Questo racconto, benché tragico e commovente, a dire la verità mi aveva alquanto deluso. Tuttavia, per non offendere la mia ospite, non le manifestai la mia delusione, anzi, per mostrare un contegno di circostanza, feci un gran sospiro. Ed ella, assorta nella maestà dei suoi lutti, mi ricambiò con uno sguardo fiducioso e grato. Quindi, sospirando a sua volta, osservò con quel suo tono meditativo da pensatrice. Sì, per la morte un uomo grosso e un guaglione sono tutti uguali. Per lei sono tutti creature. Sì, per la morte un uomo grosso e un uomo grosso e un uomo grosso.